Ore contate per i rifiuti presenti estate e inverno sul nostro lungomare. Pochi giorni ancora partirà il progetto Adotta una Iuola, appena sottoscritto dal Comune di Massa con l'Associazione Balneare Riviera Puana. Da Cinquale alla Partaccia saranno albergatori e balneari a tenere puliti gli spazi verdi davanti alle strutture ricettive. Un contributo al mantenimento della bellezza, anzi al miglioramento della bellezza del lungomare, che è poi il biglietto alla visita dell'intera città, sia anche dal punto di vista turistico. Allora i balneari e gli albergatori di Riviera Puana hanno adottato ognuno la Iuola, non soltanto del lato di sud, quello verso il mare, ma anche quello verso Monti, per tagliare l'erba, per irrigare, per mantenere le più belle. La lodevole iniziativa è stata accolta con entusiasmo dall'amministrazione massese, che già pensa a possibili altri punti su cui poter lavorare, primo della lista quello dei parcheggi. Riviera Puana ha fatto un'apertura dimostrando che effettivamente può esserci collaborazione, noi abbiamo ovviamente raccolto al volo, anche perché questo ci consente in un momento di particolare difficoltà per le casse in generale degli enti locali di risparmiare un po' di soldi. Un'altra delle idee, come si è lanciato, è quella dei parcheggi a pagamento, che naturalmente è un pagamento molto moderato, per consentire di chiamare la gente e non di mandarla via. Certo, un bel servizio offerto a turisti e cittadini, frutto della consapevolezza dei privati, coscienti da tempo delle numerose difficoltà economiche che il Comune sta cercando di fronteggiare. Abbiamo vissuto due giorni tragici, perché sabato e domenica c'era questo blocco, nato da una serie di concause, lo sciopero, il Cermec, Pisa che aveva chiuso la zona di raccolta. E quindi si è dimostrato come basta pochissimo per saltare, bastavano due o tre giorni, bastava che ancora oggi continuassi, ma non è successo per fortuna, perché stamattina i camion si sono riattivati.